buongiorno da obiettivo news oggi 12 febbraio e santi martiri di abitina oggi è il giorno di darwin una celebrazione in onore di charles darwin che si tiene in occasione dell'anniversario della sua nascita il 12 febbraio questa giornata offre un'opportunità unica per riflettere sull'importanza della scienza dell'evoluzione dell'eredità lasciata da charles darwin oggi è anche la giornata nazionale del minestrone e la giornata internazionale del plan patting dolce di forma semisferica preparato con uova mandorle frutta candita rum e spezie molto diffuso nel regno unito è considerato il tipico dolce natalizio inglese tra i nati di oggi noi veriamo abraham lincoln 1809 franco zeffirelli 1923 e appunto charles darwin 1809 tra le scomparse ricordiamo charles schulz 2000